Musica Trasporta oltre 2 kg di cocaina, arrestato dalla Polizia di Stato, un mazzarese di 67 anni. Trasformazione del contratto da part-time a full-time per 22 dipendenti comunali di Mazzara del Vallo. Nella rubrica del dottor Riccardo Larosa, secondo me, oggi si parlerà di politica e disabilità. Calcio di eccellenza, pareggi per Mazzara e mazzarese. Ben ritrovati cari telespettatori ad una nuova edizione del Tg8 Informazione sul canale 117 del Digitale Terrestre. E in streaming sulle nostre pagine social e buon inizio di settimana a tutti voi. Iniziamo subito con una folta pagina di cronaca e andiamo a Mazzara del Vallo, dove un uomo trasportava oltre 2 kg di cocaina e stato arrestato dalla Polizia di Stato. Trasportava oltre 2 kg di cocaina pura il 67enne arrestato nei giorni scorsi nel comune di Mazzara del Vallo dagli agenti della squadra mobile della questura di Trapani. L'uomo è stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la città a bordo di un'autovettura. Gli agenti, insospettiti dal suo particolare comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in questura dove hanno proceduto a perquisire il veicolo. Nel corso delle ricerche gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato un sacco in tela nascosto sotto un sedile contenente due grossi involucri di droga del peso di oltre 2,3 kg. Il 67enne è stato così tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala è stato poi convalidato dal GIP che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere. A Valderice invece i carabinieri della locale stazione hanno sottoposto un 28enne del luogo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto anti-stalking in ottemperanza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani a seguito della denuncia da parte della vittima ex convivente la quale riferiva ai carabinieri di condotte persecutorie da parte dell'ex ragazzo iniziate alla fine del loro rapporto di convivenza. Il 28enne già nel luglio scorso era stato sorpreso dai militari dell'arma a seguito di perquisizione in possesso di un coltello di genere vietato, una mazza da baseball ed un grosso tubo in ferro e perciò deferito in stato di libertà unitamente ad un altro soggetto. Ma come ogni settimana controlli nel weekend da parte dei carabinieri sono stati tre i denunciati a Trapani. I carabinieri della compagnia di Trapani durante i controlli messi in atto nel fine settimana appena trascorso hanno denunciato due giovani trapanesi per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Fermati e controllati durante un posto di blocco sono stati sottoposti a perquisizione personale veicolare venendo sorpresi in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato un palanchino in ferro e una frusta in nervo di bue tutti oggetti utilizzati presumibilmente come strumenti per l'offesa della persona. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri che hanno contestualmente deferito all'autorità giudiziaria i due 25 anni. Altro soggetto denunciato dai carabinieri di Trapani durante l'ultimo weekend un pregiudicato trapanese di 24 anni in atto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale per guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A seguito di un incidente con feriti i militari dell'arma dopo aver rilevato il sinistro hanno accertato che l'uomo oltre ad essere sprovvisto di patente di guida sarebbe risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 24 anni in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di pena emessa dalla Corte d'Appello di Palermo che dispone la sostituzione dell'attuale misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella più afflittiva degli arresti domiciliari. Il provvedimento scaturisce da molteplici violazioni commesse dal giovane e documentate dai militari dell'arma che dopo la notifica lo hanno tradotto presso l'abitazione di residenza. Ad Alcamo la polizia di Stato arresta due uomini responsabili di violenza sessuale. Ascoltiamo i dettagli. Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo hanno tratto in arresto un cittadino rumeno rintracciato presso una struttura ricettiva di quel centro che doveva scontare cinque anni e mezzo di reclusione in seguito ad una condanna definitiva per violenza sessuale aggravata commessa nel 2010 in provincia di Venezia. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani. Scontata la pena il rumeno dovrà osservare ulteriori obblighi discendenti dalla misura di sicurezza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori del divieto di svolgimento di lavori che prevedano il contatto con minori nonché l'obbligo di informare gli organi di polizia circa la sua residenza o i suoi spostamenti sul territorio. Sempre ad Alcamo, nelle stesse giornate, personale del settore anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza ha proceduto alla notifica di un provvedimento emesso dal GIP presso il tribunale di Trapani nei confronti di un cittadino tunisino al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla propria ex moglie da cui si era già separato nello scorso mese di agosto. La misura cautelare applicata scaturisce dalla denuncia per violenza sessuale aggravata violazione di domicilio e lesioni personali sporta dalla ex coniuge la quale, alcuni giorni addietro, si era ritrovata in casa l'ex marito che pretendeva di avere un rapporto sessuale minacciandola fin anche con un coltello da cucina e aggredendola fisicamente tanto che la vittima aveva dovuto fare ricorso alle cure mediche dei medici del pronto soccorso dell'ospedale di Alcamo il tunisino già nel corso del 2020 era stato destinatario di analogo provvedimento inibitorio per fatti analoghi ad esito dei quali era stato imputato in specifico procedimento penale Processato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa adesso è stato assolto da questa accusa il 45enne marsalese Carlo Frazzitta a difenderlo in tribunale è stato l'avvocato Vincenzo Forti che è riuscito a dimostrare la sua innocenza secondo il capo di imputazione il Frazzitta il 26 settembre e il 5 ottobre 2020 aveva violato gli obblighi e i divieti imposti da un provvedimento emesso dalla magistratura il 20 maggio dello stesso anno nell'ambito di un procedimento per atti persecutori di stalking del quale poi è stato invece assolto a Castellammare invece un uomo di 23 anni è stato arrestato per rapina ed è stato incastrato dalla videosorveglianza i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il tribunale di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un giovane castellammarese di 23 anni ritenuto presunto responsabile di una rapina e uno scippo avvenuti in quel comune il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Trapani a seguito di due distinti episodi avvenuti nel centro di Castellammare del Golfo all'inizio di questa estate le escursioni testimoniali e la minuziosa analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di individuarne il presunto autore nell'odierno indagato già noto ai militari poiché gravato da precedenti di polizia specifici il giovane si sarebbe reso responsabile da prima di una rapina in danno di una tabaccheria infatti approfittando dell'assenza di altri clienti il giovane avrebbe scavalcato il bancone dell'esercizio commerciale e minacciando il titolare al fine di non fargli allertare le forze dell'ordine avrebbe asportato circa 140 euro dalla cassa dandosi poi alla fuga per le vie limitrofe dopo qualche giorno invece lo stesso giovane avrebbe seguito un 66enne che camminava a piedi nel centro della città e gli avrebbe sottratto strappandogliro di mano un borsello contenente il portafoglio con i risparmi dell'uomo e altri effetti personali in questo ultimo caso la perquisizione operata dai carabinieri a carica dell'arrestato aveva poi consentito di rimvenire gli indumenti verosimilmente usati nel corso dell'evento delittuoso l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ovvero rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria ma parliamo di politica e territorio oggi alle ore 16 torna a riunirsi il consiglio comunale di Mazzara del Vallo in seduta ordinaria nella discussione ben 24 punti all'ordine del giorno di cui ben 19 riconoscimenti debiti di fuori bilancio ma sempre a Mazzara trasformazione del contratto da part-time a full-time per 22 dipendenti comunali ecco i particolari nel servizio nei giorni scorsi per 22 dipendenti comunali è arrivata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si tratta in particolare di 6 dipendenti operatore tecnico di categoria A e 16 dipendenti esecutore operativo specializzato di categoria B precari storici del comune che erano stati stabilizzati a tempo e indeterminato a fine 2018 sale a 11 su 28 stabilizzati nel 2018 il numero dei dipendenti di categoria A che hanno ottenuto il contratto full-time mentre sono 38 su 59 quelli di categoria B ora con il contratto full-time compatibilmente con i limiti di bilancio e nel rispetto dei piani occupazionali l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di completare con lo scorrimento delle graduatorie la trasformazione dei restanti contratti da part-time a full-time la firma dei contratti full-time è avvenuta al Palazzo di Città alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci del segretario generale Calogero Calamia e del dirigente del settore personale Maria Stella Marino il Sindaco ha espresso ai dipendenti comunali gli auguri di buon lavoro torna al completo la giunta comunale di San Vito Lo Capo il Sindaco Giuseppe Peraino con proprio decreto ha nominato Assessore Alessandra Ruggirello in sostituzione del dimissionario Andrea Spada il Sindaco Peraino inoltre ha proceduto ad una parziale redistribuzione delle deleghe assessoriali al Vice Sindaco Franco Valenza è stata assegnata quella ai servizi demografici all'Assessore Francesca De Luca quella per l'attuazione del programma e all'Assessore Nino Ciulla è andata la delega all'associazionismo il Sindaco ha mantenuto per sé le deleghe relative agli affari generali al personale, igiene e sanità politiche del mare urbanistica e protezione civile casa vacanza estiva in Sicilia abusiva una su due è corsa alle regolarizzazioni il conto per il momento si è fermato a 10.883 tante sono le strutture ricettizie censite in Sicilia dalla regione attraverso l'introduzione dell'obbligo di acquisire un certificato per poter operare sul mercato un dato che ha stupito i dirigenti dell'Assessorato al Turismo soprattutto perché circa la metà di queste strutture per lo più i piccoli appartamenti adibiti a casa vacanza era totalmente sconosciuto al sistema di registrazione dei flussi operava quindi se non in nero quanto meno nell'ombra è un risultato che apre scenari nuovi quello dell'assegnazione del CIR il codice di identificazione regionale a tutte le strutture che accolgono turisti porta alla luce migliaia di microattività legate a mini appartamenti singole stanze e seconde case che finora sfuggivano ad ogni controllo e alla verifica dei requisiti di qualità anche se va detto per le strutture più piccole fino a luglio scorso non era previsto alcun obbligo di registrazione soprattutto se l'attività era limitata a meno di 30 giorni all'anno ma si sono concluse ieri sera le attività operative dell'esercitazione nazionale Sisma dello Stretto 2022 organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con le regioni Calabria e Sicilia che ha visto a partire dal 4 novembre tutte le componenti del Servizio Nazionale misurarsi in numerosi scenari allestiti tra le province di Reggio Calabria e Messina nell'ambito della simulazione di un terremoto di magnitudo 6 con conseguente allerta maremoto con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione l'esercitazione ha visto coinvolti ben 19 comuni della Sicilia con l'allestimento di 8 campi attrezzati tra i quali quello nel comune di Milazzo dove la misericordia di Mazzara San Vito con i suoi volontari ha operato ed è stata protagonista ma parliamo di trasporti e in particolare della Ryanair in vendita i biglietti da e per Trapani per l'estate 2023 ecco tutte le rotte e le novità è già tempo di pensare all'estate per Ryanair e per l'aeroporto di Trapani per questo come annunciato dal presidente dell'Airgest Salvatore Ombra la compagnia irlandese ha già messo in vendita i voli della Summer 2023 da e per Birgi a partire dal 26 marzo ai 5 voli interni che la compagnia fa con rotta Milano Norio al Serio Venezia Treviso Roma Torino Pisa e a quello su Malta si aggiungeranno altre destinazioni per un totale di 19 rotte Billund Bordeaux Bratislava Bruxelles Dusseldorf Karlsruhe Katowice Londra Manchester Riga Siviglia Tolosa e Varsavia la valorizzazione di un territorio necessita di una pianificazione strategica Grazie al nostro incessante lavoro sono già in vendita i voli su Ryanair della Summer 2023 dice Salvatore Ombra La Ryanair nei giorni scorsi ha annunciato anche il ripristino della rotta Trapani Marsala Napoli con 4 voli settimanali a partire dal 15 dicembre dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da e per l'aeroporto di Trapani Marsala violava i principi della normativa europea di settore e quanto si legge in una nota questa rotta sottolinea la nota evita l'inutile designazione di rotte in continuità territoriale e rafforza l'impegno della compagnia aerea in Sicilia ripristinando la connettività essenziale e supportando la ripresa del turismo chiude per 30 giorni a Marsala la via Ludovico Correale con un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala è stata disposta la chiusura al transito veicolare della via Ludovico Anselmi Correale per ben 30 giorni a decorrere da oggi lunedì 7 novembre è stata di fatto accolta la richiesta di un residente che dovrà eseguire lavori di manutenzione dei prospetti nell'immobile di sua proprietà ricadente nella suddetta via l'ingombro dei mezzi ridurrà ulteriormente la strada già a dimensioni minime e pertanto è stato necessario vietare la circolazione veicolare limitatamente alla fascia orale dalle 8.30 alle 17.30 l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di apporre la relativa segnaletica stradale e di consentire l'accesso ai residenti titolari di passi carrai nonché ai mezzi di soccorso andiamo all'attualità e come ogni anno tornano in tutte le piazze d'Italia la vendita dei cioccolatini della ricerca da parte della fondazione AIRC fino al 13 novembre si rinnova l'appuntamento con i giorni della ricerca di fondazione AIRC 8 giorni per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancro coinvolgendo le trasmissioni televisive radiofonica della RAI in media gli stadi di calcio della serie A e della nazionale gli studenti delle scuole superiori i comitati regionali e i volontari che sabato 12 e domenica 13 novembre distribuiranno nelle piazze i cioccolatini della ricerca disponibili anche su amazon.it e nelle filiali banco BPM il cancro resta un'emergenza scienziati e medici non possono permettersi rallentamenti in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377 mila nuovi casi di tumore più di mille al giorno e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di circa 5.000 ricercatori con un investimento nel solo 2022 di oltre 136 milioni di euro anche grazie a questo straordinario impegno frutto delle donazioni dei sostenitori il nostro paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro con un incremento del 36% rispetto a soli dieci anni fa e in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un'aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato sostenere questo impegno richiede uno sforzo corale il contributo di ognuno è fondamentale per garantire continuità al lavoro degli scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci proprio per questo sabato 12 e domenica 13 novembre i volontari AIRC tornano in 1200 piazze a distribuire i cioccolatini della ricerca a fronte di una donazione di 10 euro insieme viene offerta una guida con informazioni sui traguardi e sulle prossime sfide per la cura delle metastasi e per i tumori cerebrali scegliendo una o più confezioni di cioccolatini della ricerca faremo un gesto che fa bene due volte infatti il cioccolato fondente se assunto in modica quantità può portare benefici per la nostra salute in quanto contiene i flavonoidi sostanze della famiglia dei polifenoli con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie inoltre con questo gesto daremo il nostro contributo concreto ai progressi della ricerca targata AIRC al via la rassegna teatrale 2023 del Teatro Rivoli di Mazzara del Vallo tra risate e divertimento il Cine Teatro Rivoli in collaborazione con il Canto del Marrobbio sotto la direzione artistica di Piero Indelicato presenta ben 5 appuntamenti con la commedia d'autore 5 compagnie note al grande pubblico 5 serate all'insegna dell'umorismo intelligente con la partecipazione di noti attori della scena nazionale come Marco Cavallaro Sara Valerio Antonio Conte Alessandra Idoni Attuccio Musumeci Giovanna Criscuocolo Vincenzo Volo Enrico Guarneri Debola Bernardi Antonio Grosso Angelo Tosto Salvatore Mancuso e Salvo Lamantia in arte Toti e Totino grandi autori come Peppino De Filippo Moliere Edoardo Scarpetta Weber registi come Capodici Alessandro Idoni Marco Cavallaro e l'atteso ritorno del nostro Nicasio Anselmo E' stato definito anche il costo degli abbonamenti che va al primo settore ben 110 euro secondo settore 90 euro gallerie 70 euro anche quest'anno l'abbonamento potrà essere acquistato con la carta dei docenti e come ogni lunedì anche questa settimana la rubrica condotta dal dottor Riccardo Larosa dal titolo secondo me che questa settimana ci parlerà di politica e di stabilità ascoltiamo Buongiorno e un bentrovato ai nostri interi spettatori oggi vorrei parlare del governo nazionale di quello della regione siciliana intanto cominciamo con il dire quello che hanno in comune cioè lo stesso giorno delle elezioni il 25 settembre 2022 appena trascorso infatti abbiamo votato per il governo nazionale e i siciliani hanno votato anche per il governo della regione ora mentre il governo nazionale è entrato in carica il 22 ottobre in Sicilia tutt'oggi 7 novembre non c'è stato ancora nemmeno il giuramento dei deputati cioè sono stati proclamati gli eletti ma non hanno ancora giurato presso l'assemblea regionale siciliana con l'occasione vorrei esprimere un giudizio non politico in senso generale ma legato all'attività politica infatti un segnale importante è stato quello di aver confermato il ministero che si occupa di disabilità abbiamo quindi un ministro per le disabilità e se il governo nazionale ha ritenuto opportuno l'istituzione di un ministero ad hoc forse qualche motivo ci sarà sicuramente infatti secondo l'Istat in Italia il 5,2% della popolazione sia esatto è disabile mentre in Sicilia in Sicilia siamo al 6% quindi i numeri sono più alti anzi i numeri sono molto alti ecco perché un ministro della disabilità l'auspicio è che allo stesso modo e nello stesso tempo venga nominato quando sarà il momento un assessore alla disabilità della regione siciliana anzi a cascata sarebbe opportuno che ogni comune si dotasse di un assessore alla disabilità che si possa occupare per esempio di assistenza igienico-sanitaria degli alunni di barriere architettoniche di trasporti di tutela e promozione dei diritti dei disabili di inclusione sociale il tutto naturalmente in funzione di una piena autonomia delle persone con disabilità questi sono argomenti di cui si sono sempre occupati gli assessorati ai servizi sociali è vero ma non basta non basta perché la materia è veramente complessa quindi se l'ha fatto anche il governo immaginate ed è opportuno che si crei un assessorato specifico con un ufficio che abbia personale proprio tra cui un assistente sociale e vari amministrativi è un ufficio appunto che si occupa di coordinare tutti gli interventi in favore dei disabili per evitare appunto che la disabilità che le disabilità che sono tante continuino a produrre handicap gravissimi che poi porteranno inevitabilmente alla non inclusione e non è sicuramente quello che ci ripromettiamo noi per quanto possibile ognuno deve avere le stesse possibilità guardate che per una persona il non riuscire a prendere un mezzo per spostarsi è veramente umiliante e mortificante non poter accedere agli uffici pubblici è una cosa assurda e la maggior parte dei nostri uffici pubblici non sono attrezzati per la non autosufficienza quindi se oggi i nostri sindaci volessero dare un segnale forte dovrebbero dotarsi tutti di un assessorato alla disabilità con ufficio corrispondente e soprattutto dovrebbero affidarlo a un disabile e andiamo alla pagina finale dello sport tra le mura amiche del Palauriga e Granata della Palla Canestro di Trapani subiscono una sonora sconfitta al cospetto di un eccellente gruppo Mascio Treviglio il finale è di 53 a 85 per Trapani c'è l'attenuante dell'assenza di Dieng e Jenkins Treviglio con Cocci Finelli in panchina per la prima volta dopo i primi 5 minuti di studio domina in lungo e largo tecnicamente e fisicamente all'intervallo gli ospiti sono già sul più 18 nella ripresa Trapani non ha la forza di rientrare e Treviglio di Laga conquistando la vittoria con grande merito con personalità nella domenica in cui registrano il primo stop le azzurre invece della Seap Sigel Marsala la volley fanno quello che possono al cospetto del più attrezzato Roma Volley Club un risultato quello intermedio di 1 a 3 che viene fuori dal rapporto di forza e rispettato in toto tra i valori delle due squadre la squadra di Bracci deve pensare al calendario che le mette di fronte al prossimo match casalingo con il volley soverato dell'ex Courtney Esquen marcoledì 9 novembre alle ore 18 al fortunato Bellina per la quarta giornata di andata del campionato nazionale di serie A2 e andiamo al futsal Mazzara che non smette di stupire nell'ottava giornata di campionato i ragazzi di Enzo Bruno piegano 5 a 3 il Palermo e mantengono la vetta della classifica continuando a viaggiare a punteggio pieno davanti ad una buona cornice di pubblico dunque il futsal Mazzara del presidente Maggio archivia anche la pratica Palermo e continua il suo cammino senza macchia la settima vittoria in altrettante gare disputate arriva grazie alle marcature di 5 diversi interpreti Buscaglia Farina Figuccio De Marco e Morales e chiudiamo con il campionato di eccellenza di calcio della nona giornata ed ecco i risultati Enna Mazzara 1 a 1 Gela Casteldacci 0 a 0 Profavara Parmonval 3 a 0 Misilmeri Leonfortese 1 a 0 Mazzarese Acragas 1 a 1 Resutana Sciacca 0 a 0 Castellammare Marineo 2 a 1 Cus Palermonissa 1 a 3 Contemporaneamente vi diamo la classifica di questa nona giornata di campionato con l'Acragas in testa con ben 23 punti Enna 19 punti insieme a Misilmeri 19 Profavara 18 insieme al Mazzara calcio 18 punti Mazzarese 17 punti Sciacca 16 Casteldaccia 14 Nissa 11 Castellammare 10 Leonfortese 7 insieme a Resutana 7 Marineo 6 Cus Palermo 6 Parmon Val 4 e Gela 3 punti e vi lasciamo con il servizio degli highlights di Mazzarese Acragas e Enna Mazzara Il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Vaccara di Mazzara del Vallo tra qualche minuto andrà in scena il big match della domenica del campionato di eccellenza Gironea tra la Mazzarese e l'Acragas pallone al centro e il colpo di testa è salvataggio e adesso c'è un'occasione favorevole per l'Acragas Furnari ipnotizza il suo avversario tiro sicuramente non irresistibile Vizzini Caccetta Semenzin cerca il varco per il tiro rimpallato ancora un tiro e arriva il gollo Acragas in vantaggio mentre siamo giunti al trentesimo su un tiro deviato arriva la marcatura per la capolista del campionato che adesso si trova in vantaggio con Pavicic Secum e poi Giordano pericoloso il suo dribbling ma efficace mi stretta il tiro e si butta in ritardo e le zai che stava sul fondo potrebbe arrivare il cross che si trasforma in un tiro il cross che si trasforma in tiro bravo Furnari Secum allarga verso Russo potrebbe giocare bene questo pallone lo mette al centro mi stretta si gira il tiro rimpallato Secum e arriva il duplice fischio è iniziato il secondo tempo di questo avvincente match la Mazzarese è brava a non far ripartire gli avversari pallone al centro al tiro grandissimo gol grandissimo gol di Benivegna che gol di Benivegna il pubblico in piedi alle minuti tre la possibilità per l'Akragas con questo tiro vola Furnari Benivegna contro Vitello che la metta a terra se ne va sull'auto di sinistra Benivegna il tiro deviato ancora l'Akragas e ancora Benivegna che salva il risultato Gimè perde palla la possibilità per l'Akragas e il tiro che va fuori si salva l'Akragas Galfano il cross l'anticipo porta vuota non riesce il tap in vincente e arriva il triplice fischio del direttore di gara dopo 4 minuti e 30 secondi di recupero al Nino l'Akragas l'Akragas e Mazzarese non si fanno male ma hanno dato vita ad una bellissima partita terminata con il risultato di 1 a 1 Amici di WeSport un cordiale saluto e bentrovati alla generale Gaeta di Enna non aggiornata nel campionato di eccellenza nel girone A la formazione di mister Pippo Strano dopo la vittoria di misura contro la Leonfortese affronta il Mazzara reduce dalla sconfitta col medesimo risultato contro il Lekus Palermo un'occhiata alle scelte giallo-verdi per affrontare questa sfida 4-2-3-1 Caruso in porta Bonanno Tosto Zappalai Guzzardi in difesa in mediana Sessa e Strano in avanti Agudiak supportato dai tre quartisti Caronia Cocimano Arcidiacono rispondono gli ospiti del Mazzara con Thomas Ventrone Semeraro Federico Longo Pirello Giancitano Duarte Elamraui Fernandez Gomez match arbitrato dal signor Giorgiani Di Pesaro assistenti Saracino e Firera entrambi di Ragusa Le immagini a cura di Enzo Fallica per il film del primo tempo dopo due minuti Sessa verticalizza per Cocimano il velo su Caronia che cade all'ingresso in area per il direttore di gara è solo calcio di punizione Lenna protesta perché voleva il calcio di rigore questo il nostro rallenti per fare luce sull'accaduto nel frattempo sul calcio di punizione che ne segue Cocimano se la fa appoggiare spara leggermente alto sopra la traversa all'ottavo ancora Lenna prova a sfondare con Cocimano riesce a farlo Carambola su Agudiak il tor argentino mette per Caronia a destra prende la mira dal limite Angelo Caronia 1-0 dell'Enna dopo 8 minuti preciso a fila di palo il suo tentativo non può nulla Thomas Franco sembra una partita cominciata in discesa per l'Enna quella del generale Gaeta ma al dodicesimo primi problemi per Mr. Pippo Strano alza bandiera bianca Arcidiacono al suo posto Prestia non cambia però il monologo del match al diciannovesimo continuano a spingere i padroni di casa per vie centrali sull'assist di Guzzardi infatti Cocimano prova la verticale si ritrova il pallone Cocimano va allora da solo dal limite col sinistro arriverebbe poi il gol di Caronia sulla ribattuta di Franco ma secondo il direttore di gara questo è fuori gioco arriviamo fino al 22esimo Lenna cerca il raddoppio lo fa dalla destra con Agudiak servito da Prestia Agudiak all'indietro il velo di Prestia va Cocimano col destro di prima intenzione spera che termina fuori bellissima però la chance per Lenna in questo caso venticinquesimo Sessa riceve il pallone cerca e trova il triangolo con Cocimano la rimetta all'indietro il numero 10 spara col sinistro col piedone Thomas Franco riesce a deviarla in calcio d'angolo ventinovesimo punizione di Ram Raui sul secondo palo svetta capitano Federico solamente l'esterno per lui al minuto 40 un cross dalla destra stavolta di Prestia va a trovare sul secondo palo Caronia che la controlla potrebbe concludere l'uscita di Franco era tutto fermo per posizione di fuori gioco 41esimo Lenna protesta sempre dalla destra i pericoli maggiori il pallone arriva a Caronia che entra in aria viene disarcionato così da Lam Raui poi si rialza ma soltanto per protestare il terzo episodio che fa storcere il naso ai gialloverdi è quello del calcio di rigore mancato su Caronia nel frattempo dalla distanza è Duarte a provare a impegnare Caruso che risponde presente tuffandosi sulla sinistra minuto 42 lancio di Bonanna Gudiak fa la guerra e la vince entra in area Gudiak ma col sinistro la mira non è delle migliori sopra l'incrocio dei pali termina così il primo tempo il generale Gaeta 1-0 tra Enna e Mazzara in questa non aggiornata del campionato di eccellenza decide il gol realizzato all'ottavo da Angelo Caronia sempre le immagini di Enzo Fallica per raccontarci la ripresa prima occasione e sempre dei locali con Agudiak per vie centrali cerca l'appoggio in Cochimano subito di prima intenzione per Caronia apre il piattone gran parata di Thomas che riesce a deviarla in calcio d'angolo 62esimo il portiere del Mazzara nuovamente protagonista stavolta su Cochimano che prova a sparare dalla distanza risponde il numero 1 giallo blu poi clamoroso l'errore da parte di Ivan Agudiak che di fatto gliela spara addosso dal corner che ne segue il traversone pesca Cochimano a centro area colpo di destra a fil di valo minuto 73 termina la partita di quello che fino a quel momento il match winner ovvero Angelo Caronia dentro la vardera 77esimo occhio al Mazzara colpo di tacco di Federico Duarte allarga a sinistra per il neo entrato Illiano che si ritrova tutto solo a tu per tu con Caruso ma perde il tempo della giocata se la porta a sinistra alla sfera e poi direttamente sul fondo esce strano dentro di Dio quando mancano 10 minuti al termine della partita 82esimo attacca Lenna con Prestia che qui sbuca con una magia a due avversari poi col sinistro trova la vardera la spaccata e l'ex marina di Ragusa termina direttamente fuori 85esimo molto simile l'azione con Agudiak che riceve la sfera dalla rimessa laterale si difende riesce a passare Agudiak mette in mezzo la difesa della Mazzara allontana il pericolo 88esimo proprio la formazione ospite con questo lungo rilancio il pallone termina sul petto di Gomez che spara questo destro che vale l'uno a uno ancora una volta nei minuti finali Lenna vede sfuggire un risultato prezioso un possibile più tre per questa cannonata di Gomez rimane impiedrito non può far nulla Caruso al 92esimo in extra time viene espulso Pippo Strano poi il triplice tischio al generale Gaeta termina uno a uno tra Enna e Mazzara e ovviamente tanti rimpianti per il giallo-verdi visto il risultato in concomitanza di uno a uno tra Mazzarese e Agragas amici di WeSport un cordiale saluto allora e come sempre alla prossima ed era questa l'ultima notizia del nostro TG odierno vediamo appuntamento alla prossima edizione del TG8 informazione sul nostro canale 117 del Digitale Terrestre e in streaming sulle nostre pagine social Grazie a tutti